meditazione del secondo chakra armonizzazione cominciamo con metterci comodi per la meditazione trova un posto tutto per te se ti va accende un bastoncino d'incenso e una candela arancione spegni ogni contatto con il mondo esterno regalati questo momento solo per te siedi su una comoda poltrona con schiena dritta o disteso anche con gambe piegate adesso chiudi gli occhi e inizia a rilassarti lentamente ascolta come il tuo corpo respira senti l'aria che entra attraverso le tue narici l'aria che esce dalle tue narici e ad ogni respiro ti rilassi il tuo corpo diventa sempre più rilassato e caldo lascia andare i tuoi pensieri lasciali andare ad ogni respiro lasciati andare completamente a questa sensazione di dolcezza ascolta il tuo respiro e focalizza il tuo pensiero sul secondo chakra due dita sotto l'ombelico ogni volta che inspiro il nostro centro si contrae durante l'espirazione il centro si espande inspiro il secondo chakra si espande si consapevole della tua base inspira il pavimento pelvico si contrae espira e senti il bacino sul piano d'appoggio che preme inspira e diventi rilassato espira e cominci a sentire caldo pesante sempre più pesante e sempre più rilassato ascolta i tuoi pensieri che vanno via lasciali andare ad ogni respiro adesso visualizza il tuo secondo chakra luminoso e di colore arancione senti la sua energia e le sensazioni di dolcezza che ti infonde visualizza il colore arancione continua a respirare tranquillamente mentre sei assorbito completamente dal colore arancione luminoso immagina adesso di essere su una spiaggia il sole caldo di colore arancione ti pervade tutto il corpo ascolta l'umore delle onde che si infrangono sulla battigia ascolta la voce del mare ti senti dolcemente attratto verso le sue calde acque tiepide acque del mare che ti accoglie muovi i tuoi passi verso il mare e piano piano immergiti in quest'acqua tiepida che ti invita a lasciarti andare al suo flusso vitale ecco sei lì nell'acqua del mare rimani fatti cullare il mare il mare si prende cura di te senti come è piacevole la sensazione di lasciarsi galleggiare sull'acqua e sei tranquillo avvolto nell'arancione del cielo sei consapevole di essere sostenuto sostenuta dalla carezza amorevole del mare lasciati andare sempre di più lascia adesso andare ogni controllo ogni pensiero ti senti al sicuro e libero ti senti al sicuro e libera nelle tue sensazioni e nel caldo dell'acqua sperimenti nuovamente l'accoglienza del grembo materno osserva su di te il cielo colorato di arancio con tante diverse sfumature mentre ti lasci collare collare dal mare le onde vanno e vengono assorbi il colore arancione e il suo nutrimento il colore arancione e il colore del chakra sacrale respira e immergiti in questo colore sei tranquillo tranquilla rilassato rilassate sei consapevole che questo centro rappresenta il tuo legame con la vita inspira inspira espira senti sulla tua pelle le onde del mare che piacevolmente ti accarezzano ti senti tranquillo tranquilla in armonia con i tuoi pensieri e le tue emozioni abbandona nel mare tutte le tue ansie i dolori passati i traumi della tua vita il mare lava tutto e ti restituisce forza vitalità pulizia dolcezza respira dolcemente e tranquillamente porta l'attenzione al tuo chakra due dita sotto l'ombelico e al colore arancione ascolta il calore di questo colore arancione e questo colore arancione sale dal centro del chakra fino allo stomaco e piano piano sale al cuore alla testa alle braccia alle mani ogni centimetro del tuo corpo è pervaso dal colore arancione che guarisce ogni parte della tua psiche e ogni tua cellula aspira ed espira tu sei calmo tu sei calma e sereno e serena ti senti in pace con te e con tutto l'universo ripeti con me queste affermazioni positive mentre l'arancio il colore arancio ti assorbe io sento io vivo serenamente la mia sessualità accetto accetto il mio corpo totalmente accetto il maschile e il femminile dentro di me lo yin e lo yang sono due forze in perfetto equilibrio tra loro decido decido di prendere in mano la mia vita e diventare parte attiva nell'operare i cambiamenti che mi portano amore e realizzazione esprimo i miei sentimenti e do voce ai miei desideri merito il meglio per me stesso merito il meglio per me stessa ho chiaro dentro di me che la mia strada è verso la realizzazione dell'amore e del benessere inspira ed ispira lasciati assorbire dal vibrato di queste affermazioni e ripetile durante il giorno tutte le volte che ne avrai necessità immergiti spesso nel colore arancione e il colore curativo del secondo chakra e mentre il suono del mare continua a collarti dolcemente piano piano ti senti tranquillo ti senti in pace ora ti senti veramente in equilibrio riprendi contatto con te stesso riprendi contatto con te stessa e con l'ambiente che ti circonda appena riesci appena vuoi apri gli occhi e porta dentro di te le sensazioni di questa meditazione ti auguro giorni ricchi d'amore di questa meditazione di questa meditazione ti senti di questa meditazione di questa meditazione Grazie.